Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Memphis Depay è alla ricerca di un club e sembra che il giocatore sia stato proposto a Milan e Roma in questo weekend passato. Potrebbe essere un affare di fine mercato e noi logicamente vi tireremo informati in caso di qualsiasi novità. Il Milan spinge forte per raggiungere un'intesa per il calciatore Emerson Royale. Il Milan non ritiene più il giocatore blindato e in caso di offerta potrebbe anche scendere sotto i 50 milioni di clausola. Siete d'accordo? Anche voi fareste a meno di Ben Nasser? Da questa mattina sembra che il procuratore di Zirze sia a Milano. Sebbene sembrasse un incontro per il giocatore appena citato, in realtà dopo si è venuti a sapere che il procuratore era a parlare con Juve e Napoli per quanto riguarda Douglas Luiz. Ultima notizia ma non per importanza, oggi è il compleanno del nostro Super Mike. A lui facciamo tantissimi auguri e anche tantissimi in bocca al lupo con la sua nazionale che prosegue la corsa all'Europeo 2024. Le notizie sono terminate e come al solito vi invito a seguirci su tutti quanti i nostri social per rimanere sempre aggiornati.